Noi siamo i 5 ambasciatori del liceo Stefanini contro il bullismo e il cyberbullismo. Io mi chiamo Simone De Gandis, sono classe 1999, ho scelto di fare questa iniziativa per due motivi. Un primo perché il mio indirizzo si occupa per la punta di psicologia e pedagogia e a mio avviso una persona che vuole fare psicologia deve avere una predisposizione verso questi problemi. E il secondo perché io già sono stato vittima di bullismo e penso che le mie esperienze possano servire per le vittime future. Ciao, io sono Anna D'Auria, frequento la quarta PC dello Stefanini e sono nell'inizio Scienze Umane. Ho scelto di prendere parte a questo progetto perché vedo anche con i miei occhi che il bullismo è ancora troppo frequente all'interno della scuola e penso anche che noi studenti e noi giovani non sappiamo usare internet con consapevolezza. Quindi penso che se io studente parlo con altri studenti di questo fenomeno posso essere più ascoltata. Ciao, io sono Gioia Monigo della classe quarta P.A. dell'Università Scienze Umane. Ho deciso di aderire a questo progetto perché comunque la scuola è come se fosse la nostra seconda casa ed è importante sensibilizzare le persone su queste tematiche. Ciao, sono Sara Baldo e anche a comando sono della classe quarta P.A. dell'Indirizzo Scienze Umane. Ho aderito a questa iniziativa perché siccome questa tematica ci tocca molto da vicino credo che sia giusto che siamo proprio noi studenti a partecipare. Buongiorno, sono Martina Citton della quarta P.A. e penso sia giusto aderire a questa iniziativa. Ho deciso di farlo in quanto credo che cancellare qualsiasi forma di violenza nelle scuole anche nella rete virtuale sia un'azione che deve essere intrapresa fino a su di.